Salve cari amici tuttubi, qui è Francesco, questa è la soffitta di camera mia, qui è Zipo Perone, benvenuti o bentornati, dipende se è la prima o la seconda volta o più che venite qui a visitare la soffitta di camera mia. Quest'oggi parliamo di un albo della DC Comics, ma diversamente dalla rinascita, non mi sono arrivati nuovi spillati della rinascita in fumetteria, quindi grazie a Lion, complimenti per la distribuzione, come al solito, siamo ritornati ai fast di qualche tempo fa. Quest'oggi vi parlo di un volumetto, che è il volumetto dedicato a Shazam, è in formato library, quindi non è il limited della storia per l'appunto, ma il library, non so quante pagine siano, non me lo ricordo, per 17€, contenente i due capitoli 0 e 21 di Justice League e tutte le backup che ruotavano attorno alla Justice League, fondamentalmente per i due storia che ho già trattato qui nel canale, Viaggio Criminale e Il Trono di Atlantide, probabilmente anche per qualche capitoletto dopo. In questi capitoletti, era un backup quindi capitoletti di otto pagine, ci viene presentato il personaggio di Billy e la sua evoluzione, le sue origini, fino a diventare Shazam e i suoi primi combattimenti fondamentalmente. Ma chi è e perché ho scelto di acquistare questo albo? In realtà l'ho acquistato, l'ho letto già diverso tempo fa, quindi vado molto a memoria, però lo ricordo abbastanza bene per quelli che sono i punti massimi, di quelli che doveva essere già la video-opinione che dovevo fare qualche settimana fa, qualche mese fa in realtà. Di che cosa parla questo Shazam? Come dicevo, le origini di Billy. Billy è un ragazzino orfano che è sempre vissuto in un orfanotrofio, fino a quando la famiglia Batson non l'ha, diciamo, adottato per l'appunto. Billy è un personaggio anche piuttosto burbero, piuttosto scontroso, piuttosto irrispettoso, se vogliamo, di quelli che sono, quella che diventerà poi la sua famiglia. Non è che, insomma, lui è sempre vissuto in un orfanotrofio, ha sempre avuto una vita piuttosto difficile e disagiata. Adesso che viene adottato, il primo impatto non è assolutamente positivo. La famiglia Batson ha diversi figli, tutti quanti adottati, tutti quanti con una personalità a loro volto difficile e Billy vorrebbe semplicemente avere la sua indipendenza e la sua libertà di azione in quella che è la casa della famiglia che l'ha adottato fondamentalmente. Mentre invece i fratelli più grandi, o che sono lì da più tempo, perché non sono tutti più grandi di Billy, vorrebbero un attimino opprimerlo, insomma, sei il nuovo, sei quello più piccolo, devi stare alle nostre regole. Billy verrà poi contattato all'interno della storia da un'entità chiamata Il Mago, un'entità che si trova nel sottosuolo della nostra terra, in una dimensione, se non ricordo male, diversa dalla nostra, e che conferirà a Billy i poteri di Shazam. La nuova interpretazione è che Geoff Jones, autore della storia per i bellissimi disegni di Gary Frank, che sono veramente spettacolari, e non vedo l'ora quindi di vedere Doomsday Clock, che cosa succederà, visto che la coppia sarà sempre questa. Dicevo, Geoff Jones reinterpreta quello che è il mito di Shazam, la storia, almeno, editoriale di Shazam, personaggio inizialmente nato per un'altra casa editrice, acquisito poi dalla DC Comics, e generalmente portatore di luce, di bene, è un personaggio estremamente positivo. Geoff Jones lo reinterpreta in chiave New 52, una chiave che non vede più quella luce, quella speranza nell'intero universo, dovuto agli sconvolgimenti del Flashpoint. Sconvolgimenti che quindi toccano anche il personaggio di Billy, che come dicevo è piuttosto scontroso, piuttosto irrispettoso, piuttosto burbero. Ma è un burbero comunque buono, e questo gli viene riconosciuto dal mago, che cercava una persona esattamente buona in ogni circostanza, ma Billy gli farà notare non esiste, non esiste una persona che sia buona sempre e comunque. Bisogna valutare le intenzioni delle persone, e Billy nelle azioni che farà, che compierà nella prima parte della storia, cercherà sempre di fare del bene, per quanto ha suo modo, per quanto in un modo burbero, in un modo che lo fa sembrare distaccato dagli altri, perché Billy non vuole provare sentimenti, i sentimenti positivi lo fanno soffrire, lo fanno soffrire perché ha avuto un'infanzia difficile, una vita difficile, ed è quindi un messaggio anche piuttosto interessante, per quanto non del tutto positivo, interessante su questo tipo di personaggio, e piuttosto quindi vero, secondo me, non è una... non è una chiave di lettura errata, anzi, è abbastanza realistica. La storia poi proseguirà raccontandoci come ha le sue prime esperienze con i suoi nuovi poteri, i suoi primi scontri con i suoi principali antagonisti, ma tutto sommato la storia per ora esula abbastanza da quello che era la continuity della Justice League, ma probabilmente da qui poi si rilaccerà alle storie, che se mai continuerà nel formato library la Justice League 1952, vedranno avvicinarsi anche il personaggio di Shazam. Consiglio all'acquisto di questo volume, a me, devo dire, mi ha colpito in certi punti, in altri mi è sembrata una lettura anche abbastanza pesante, perché il formato backup presentava storie di otto capitoletti, qui messe tutti insieme uno dopo l'altro, ma il fatto è che questo tipo di narrazione ci sta bene in una periodicità, per l'appunto, mensile. Perché? Perché lette tutte quante di file, si ha proprio la sensazione che alcuni capitoli siano accelerati o decelerati per arrivare a raccontare una determinata situazione, per poi riprendere esattamente da dove si era lasciati nel capitolo immediatamente successivo, o comunque poco dopo, nei dintorni di quello che è appena successo. Quindi si hanno questi continui fluttuamenti nel corso della narrazione, che per quanto Geoff John sia stato bravo a giostrarla bene, cioè non è che proprio Geoff si avverta sempre, ma in certe situazioni è abbastanza evidente questa cosa qui, per quanto mi riguarda. E quindi, niente da che ridire. Cioè, fondamentalmente la storia, se nella prima parte, quella riguardante il mago, Shazam, il concetto di bene, i primi contatti col proprio potere, quindi le prime sensazioni belle e positive che questi poteri galvanizzano il protagonista e i suoi fratelli, nell'ultima parte mi è sembrata un po' un butta su di roba per raccontarci poi un finale che vedesse lo sconto tra Shazam e il suo eterno rivale Black Adam. Però, ecco, sensazione mia, diciamo che la prima parte vale, secondo me, abbastanza la pena di essere letta, di essere... o almeno, per chi ha curiosità su chi sia questo personaggio, vale, secondo me, la pena leggerlo e approfondirlo. Se uno, questo personaggio, proprio non gli interessa, per me è un albo anche abbastanza evitabile. Detto questo, noi ci vediamo ad una prossima video-opinione del canale. Ciao!